La televisione basta, i tg di informazione, politici, virologi, opinionisti, giornalisti, la paura è nulla, e nulla è la paura, governi sempre in crisi, sempre in piedi, la pandemia, e la folla dei narcisi non più umani, fabbricatori di rabbia, avanderà. Social network, basta, il tempo e la ragione, amici, gattini, faccine, riso amaro, che bella compagnia, quando non son babilate con piaciute di odio quotidiano, rinchiare a qualcuno per sentirsi vivi come una battaglia vera, migliardi di umani alla tastiera, soli inutili, impotenti, a vanvera, a guardare il mondo, sgomenti, da lontano, il mondo in cui viviamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.